Sesta stazione Gesù e Maria e il discepolo la prese nella sua casa. Ecco i segni, non ci ricordano mai dire la madre di Gesù. Adesso incontriamo, recitando dalle barriere del Rosario. Caro Gesù, mentre eri su una croce e stavano poco distanti, tua madre e le mie amici, tu diceste a tua madre, donna, ecco il tuo figlio. Poi diceste a Giovanni, porta mia madre a casa con te e vada a lei. E da quel momento il discepolo Giovanni la prese nella sua casa e il simbolo di lei. Anche noi, Signore, vogliamo prenderci in cura della propria madre Maria, accogliendo nella nostra casa le vedo, le madri assurritte dal dolore e tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno morale, nel momento di avere una persona cara. Signore Gesù, vogliamo essere vicino da soffre, offrendo il nostro caro dell'amore, così come in luce ne sei nato, morendo sulla croce per noi. Gesù, Signore, che senza vita non possiamo fare l'amore, grazie per te non ci lascio mai soli, grazie per te che avverci donato Maria, averci affidato al suo amore e alle sue ore, insegnarci a terra con noi come compagna, ti cammino nella vita di ogni giorno. Ecco, diciamo insieme, Avere Maria, viene in casa, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetta è il frutto del tuo Senno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, era per noi e per noi, adesso è per noi, per la nostra morte. Amen. Ci libererà, Signore, ci libererà, Signore, quel tuo braccio santo ci libererà. Ci libererà, Signore, ci libererà, Signore, la gioia dell'amore ci libererà. Le tre del pomeriggio. Era verso mezzogiorno, ma che il sole inseriscono i suoi decedugni su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Il velo del peggio si scorciò nel mezzo. Gesù, gridando in gran voce, disse, Padre, nelle tue mani, tu sei del mio spirito, e detto questo, spironi. Ci cerchiamo. . . . . . Grazie a tutti. Ecco sempre che ci ricordano la passione e la morte di Gesù, l'atroce, idioti e immortali. La tua sofferenza sulla croce è di stare necessante per chi la fa, un dialogo con i presenti, tra cui la tua madre che risceva il tuo mare. Un ultimo rito che tu te fu un giro. Sei giunto dove i tuoi amici vorrei, e dove i tuoi padri li attendeva. Dopo il trono, abbracci il diverso con il tuo corpo e il sangue, per ridare al padre del tuo sacrificio che era iniziale. Aiuterci, Signore, a iniziare la morte con l'ultimo atto d'amore della vita, e come vi consegna a colui che ce l'ha forato. Donaci il coraggio di regalarci teniamente al tuo incontro. Gesù, Figlio di Dio e Signore della nostra vita, è morto in croce nella salvezza di tuoi uomo e di ogni donna della terra. Ti ringraziamo, Signore, e ti adoriamo, perché dalla croce ci mostri tutta la misericordia di Dio padre. Grazie, perché morendo sulla croce ti sei donato di tutto per noi. Ti sei fatto compagno nella nostra sofferenza e di qualsiasi dolore. Ci libererà, Signore, ci libererà, Signore, la morte ci libererà. Il sepolcro nuovo Era un certo Giuseppe originario di Erivatea, una città dei giudei, e gli faceva parte anche del tribunale ebraico, ma non aveva procurato quello che gli altri consiglieri avevano deciso e fatto contro Gesù. Era un uomo buono e giusto e aspettava una fiducia e regno di Dio. Giuseppe, dunque, abitò da Milato e chiese un ricordo di Gesù. Lo depose dalla croce e non volse in un suono. Infine, lo mise in un sepolcro lo scavato della roccia, dove nessuno era stato ancora sempre il lito, e fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Questa pietra ci ritorni nel passo di più del sepolcro, dove Gesù è stato sepolcro. Sei di nuovo nelle braccia della Madre Lua, così come ti appose in fasce quando vediste a te luce. Ora ti prepara per eseguirsi al Padre. Che grazie, Signore, che esti a questo Giuseppe, quelle di poter te cuore dalla croce che si è sempre liberi con l'aiuto di Nicodemo il tuo divincorpo nel sepolcro nuovo scavato nella roccia. Così si è conciuto il più grande dramma della storia. Ormai tutto è silenzio, ma non è il silenzio della morte, piuttosto quello della sede e del sede che sotto la terra nel nascondimento prepara una nuova vita. Il buio della donna è in tristezza, il dolore è un pianto, ma la fede ci dice che la nostra tristenza non è senza speranza, dove il buio deve sempre la luce, la luce della mente, la luce della visione di Cristo. Per questo preghiamo. Vieni Signore a portare il luce dei nostri dubbi perché invagliamo al cercante e all'amante. Vieni Signore bagli i nostri occhi affinché scorciamo nel senso e nel segno e nel segno e nel segno e nel segno chiuso il picchico di brano che è il cuore per portare il nostro tutto. Rivediamo insieme Sintone che andiamo fede in te. Sintone che andiamo fede in te. Tu sei della risurrezione della vita. Tu sei della risurrezione della vita. Ci ripeterà il Signore ci ripeterà il Signore Votro braccio Santo ci ripeterà ci ripeterà il Signore ci ripeterà il Signore Adonato e la morte ci ripeterà Gesù risorge dalla morte Il primo giorno dopo il sabato di buon mattino le donne si regavano alla compo portando un sè aromi che avevano preparato trovavano la pietra rotta la pietra dal segontro ma entrate non trovarne il corpo del Signore Gesù mentre erano ancora incerte con due uomini a parire vicino a loro in vesti scomoranti essendoci le donne comuni avendo finito il corpo all'interno essi dissero perché cercate tra i morti dove è vivo non è qui è risuscitato il corpo di Gesù non c'è più è risolto non tutti lo vedranno non aver risolto sono quelli che faranno essere gli amici che prenderanno i tuoi a questi Gesù dà il potere di diventare i figli di Dio e che rivederanno a comprendere le cose significative che vostro vuoto certo se vostro vuoto ci parla solo dell'unica tutto lascerà in un giorno in un secondo ma se avremo fatto tutto con la diversità di Gesù tutto ciò che abbiamo fatto sarà trasformato e resterà per sempre come Gesù risolto anche le nostre amicizie le cose belle che facciamo tutto resterà se saremo fatto con la diversità di Gesù e sapete qual è questa diversità l'amore su allora io ti amore via da l'amore e lì gli spessi l'amore e le gelosia da oggi saremo una cosa nuova una cosa diversa tua pace rifare diverso il mondo il mondo di unirene alla pace che nasce solo quando c'è l'amore e la tua humiltà che è come o lezze che vi conoscano bene allora riempiamo i sepolchi di cose belle e nuove insieme a Gesù con tanto un altro amore facciamo risuonare forte la luce della tua risurrezione perché la gioia che è il nostro raggiunga cantiamo il cuore accendendo i messi la luce della speranza che non ti è luce il Signore la vita che vince la morte gloria gloria cantiamo al Signore gloria gloria cantiamo al Signore grazie Signore per ti aiuto la morte fai rioffare la vita nei momenti di risi di mora fai sentiamo la tua presenza prendici per male e sconderarci vogliamo vivere e avere amici insieme con te con il tuo aiuto riusciremo anche noi a portare gioia e conforto alle persone che sono nel dolore che hanno bisogno con il nostro solito e il nostro premio vogliamo costruire un modo di pace dove si avvergono vivere tutte le persone senza più violenze e guerre perché siamo tutti fratelli e sorelli che siamo vivi sulla casa del cielo tu sei il risorto stai sempre con noi amo amici 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 questo momento di preghiera che è stata realizzata anche un po' su misura per voi e nonostante i momenti che abbiamo visto le persone che ci possono essere abbiamo voluto passare un momento accanto a Gesù che per noi ha voluto portare la croce e voluto salire sulla croce ha voluto donarci la vita e attraverso la sua morte e la sua resurrezione vuole che la nostra vita risolga insieme con lui allora faremo un gesto adesso che è quello di impaciare la croce il gesto di impaciare la croce è un gesto molto antico si fa come esempio di grande delusione come esempio di grande effetto verso Gesù che ha dato la sua vita a Gesù uno di noi ecco, ogni tanto mi capita che viene fatto che viene promosso un giorno dove si dice di dire il vostro desiderio di mettere il discorso del desiderio sì o no? mi avete il desiderio? no basta tutti esauditi tutti esauditi anzi ecco allora ecco baciando la croce di Gesù con la nostra mente pensiamo a qualcosa di buono di bello che vogliamo Gesù realizzare la nostra famiglia tra i nostri amici con i nostri parenti ecco dimendiamo la tempura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.